Io avevo una ditta, poi ho chiuso perché le ditte mi hanno pagato, ho chiuso male, la banca mi ha portato via la casa. Che ditta era? Centro almeno. Quando l'ha chiuso? Dieci anni fa. Quindi con la crisi questa azienda ha chiuso? Ha chiuso, avevo gli operai e tutto. Ci può raccontare come sono stati quei momenti dalla perdita del lavoro alla perdita, come ci ha detto lei, di tutto? Ho fatto tanto sacrificio, me ne sono andata in depressione, però chi mi ha dato la vita è il mio nipote. Non ho più niente, né casa, né macchine, niente. Non mi posso intestare le macchine perché ho chiuso male, le case non te le danno perché non c'è lavoro, non c'è buste paghe. A seguito dell'esaurirsi del mercato ci sono molte poche case a disposizione e proprietari che siano disponibili a darle in affitto. Noi abbiamo recentemente fatto un appello perché ci vengano sottoposte delle proposte di concessione in affitto di appartamenti che questa sera ben volentieri rinnovo e noi siamo disponibili a prendere in esame queste possibilità.